benvenuti in questo nuovo episodio dove parlerò del bilanciamento del bianco e della temperatura colore nelle foto notturne allora questa fotografia che vedete qui alla mia destra non è mia ma è dell'amico salvatore appunto con l'amico salvatore si discuteva di come questa foto abbia questa dominante gialloniola andiamo a vederla meglio in camera raw perché ha questa dominante gialloniola perché quando è stata scattata la temperatura colore e il bilanciamento del bianco della fotocamera l'avranno impostati su automatico allora la fotocamera cerca di dare una sua interpretazione alle diverse sorgenti di illuminazione che possono essere a neona luci incandescenza o a led e quindi fa una media che 9 volte su 10 è spagliata e ci restituisce questa dominante gialloniola come possiamo correggere questa dominante allora in camera raw abbiamo a disposizione lo slider temperatura e tinta che fanno parte del bilanciamento del bianco allora possiamo agire spostando appunto lo slider a temperatura a destra scaldando la foto a sinistra se lo spostiamo a sinistra vedete come il bilanciamento risulta quasi corretto abbiamo tolto le dominanti gialloniole dell'erba che erano presenti vedete prima altre dominanti delle sulle case che erano praticamente completamente gialle è presente ancora qualche dominante no qui nel diciamo qui nella parte bassa delle case che tendenzialmente verso il blu oppure qui sul viola ancora qui sul blu però tutto sommato è un bilanciamento che potrebbe essere quasi corretto allora io non utilizzo in questo sviluppo lo slider a temperatura perché preferisco affidarmi alla pipetta del bilanciamento del bianco che trovate appunto qua in alto strumento bilanciamento del bianco la seleziono mi stavo dimenticando sia la pipetta del bilanciamento del bianco che gli slider a temperatura e tinta sono stati approfonditi nel primo episodio del mio corso di base sul sviluppo digitale in camera raw con la pipetta cosa faccio vado a cercare delle zone di grigio medio di sotto questi questi lastrecati fatti in pietre sono tendenzialmente verso il grigio quindi vado qui e con la pipetta clicco vedete che mi restituisce un bilanciamento che è quasi corretto ha modificato sia la temperatura che la tinta che era spostata verso il più ventuno tutto sommato a me non dispiace no ci sono come dicevo prima anche con lo slider a temperatura alcune dominanti però potrebbe andare bene adesso procediamo con uno sviluppo base della fotografia quindi mettiamo un pochino l'esposizione non di tanto poi le luci se clicco col tasto alto posso vedere le zone che sono bruciate e le abbasso un pochino ma senza esagerare non dovete avere paura di lasciare alcune zone come questa bruciate perché nelle foto notturne ci stanno non ci possono essere tranquillamente non dobbiamo eliminarle completamente poi le ombre cerchiamo di recuperare un pochino ma senza esagerare perché se andate a fondo scala essendo un notturno a fondo scala vedete quanto rumore esce qui nel cielo perché si annida proprio nella zona buia quindi aumentiamo un pochino le ombre ma senza esagerare io direi che il più 22 va più che bene bianchi col tasto alto possiamo vedere sempre le zone bruciate e abbassiamo un pochino ma senza esagerare anche in questo caso direi che meno 27 va più che bene i neri sempre col tasto alto vediamo le del zambino chiuso e cerchiamo di aprirle un più 26 tutto sommato forse un pochino meno ecco così diciamo può andare un po di chiarezza spostiamo intorno ai più 14 anche meno in questo caso secondo me più 10 è più che sufficiente e come primo diciamo sviluppo nel pannello base può andare bene c'è un pochino di rumore quindi andiamo nel pannello dettagli che è la terza icona a sinistra e questo punto e cerchiamo di diminuire un pochino il rumore con lo slider luminanza in questo caso più 20 è più che sufficiente possiamo dare un po di nitidezza alla foto quindi spostiamo il fattore a 50 e la mascheratura che è diciamo lo slider che attribuisce le zone in cui voi date la nitidezza cioè in questo caso io ho dato il fattore 50 49 possiamo decidere in quali zone dare maggiore di nitidezza quindi tenendo schiacciato il tasto alto sulla tastiera e lo slider ci spostiamo e vediamo che si ottiene questa sorta di mascheratura no le zone bianche sono quelle dove va il software ad attribuire la nitidezza se io mi sposto vedete tutto a destra la nitidezza verrà attribuita solo in alcune parti io in questa fotografia vorrei dare la nitidezza soprattutto al paese e poco al cielo quindi secondo me questo caso potrebbe andare bene ok torniamo al pannello base vedo che qui in alto non so se vedete a monitor un pochino c'è questa macchia fastidiosa possiamo utilizzare rimozione macchie clicchiamo qua ok può andare sto andando veloce è chiaramente giusto per farvi capire uno sviluppo diciamo base no di questa fotografia come migliorarla e poi andrei nel pannello hsl che ne ho parlato appunto nell'ottavo episodio del mio corso base di sviluppo digitale anche rimozione macchie sta negli episodi del corso base di sviluppo digitale e andrei nel pannello saturazione diminuire leggermente in blu senza esagerare meno 12 viola anche l'oro 12 magenta in tempo perfetto ok ritorniamo al pannello base e vediamo un prima e un dopo di dello sviluppo di questa fotografia questo punto è il dopo e qui vediamo prima avete visto come cambiata la fotografia però lo sviluppo tutto sommato ci sono c'è ancora una presenza di dominante no su alcuni colori però tutto sommato guardate la correzione che è stata fatta poi ognuno sviluppa a proprio modo proprio gusto e questo è diciamo proprio la base che si può fare poi ci sono altre metodiche per eliminare dei dominanti con delle maschere in photoshop però come primo approccio lo sviluppo può andare bene potremmo anche in questo caso se vogliamo andare qui in questo pannello fx e magari visto che c'è un po di foschia spostare lo slider un pochino rimuovi foschia scusate un pochino diciamo un più 10 ecco fatto come tocco in più è chiaramente senza si poteva anche lasciare però secondo me ci può essere d'aiuto guardate il prima e dopo anche per oggi è tutto vi ringrazio di avermi seguito vi chiedo gentilmente di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale ciao a tutti